per le amici a casa la parola ci si mette in cerchio praticamente c'è un pistolero al centro saresti tu ah scusate Giuseppe è venuto quando mi chiamo Giuseppe è venuto una strage Giuseppe faccio mi sta spagando va scacciando non mi devi scegliere scusate 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 forse non l'ho detto quando vi chiamo vi abbassate se mi chiamo per il nome eh scusa Elisabetta Antonella è veramente Adoni in realtà che mi chiamo Elisabetta e mi ha bruciato Antonella ehm vabbè andò a chiamare Chiumo vabbè faccio levare il pinelo Samuele go Samuele ho scolato ho scolato Sfeli smettila sara sara ti ho preso mi dispiace 10 che squadra siete? Martina non puoi fare dopo che sei dove adicare non ci favo pure no tu ti dovete abbassare no tu ti ho preso mi dispiace no tu ti ho preso mi dispiace ma si no tu ne ho preso mi dispiace no tu ne ho preso mi dispiace no tu ne ho preso mi dispiace no tu non puoi stare Su, su, su. Sì! No, no, no. Massimo! 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 Pranuti in capuzco, ormiet, trevici arrivo! Massimo! Massimo! Occhio al imparciù di con la pedra Occhio, occhio ! attenzione! Con la pedra voglio vedere le mani Dai con la pedra altru con le mani Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!